Massimo Bettarello, presidente ATV di Verona, che è stato il trade union per questa operazione di solidarietà. Lo ricordiamo, avete subito dato una grande mano a Camerino al territorio con una roulotte nei giorni immediati, una casetta qualche mese dopo e oggi la comunità Camerte vi ha voluto ricambiare la vostra gentilezza con un pacco di pasta. Beh, assolutamente è stato molto gradito, anzi proprio il fatto che non era dovuto, che non era aspettato l'ha reso ancora più gradito. Ho parlato con i rappresentanti dei nostri dipendenti, sono contentissimi, non vedono l'ora di poter fare qualcos'altro con la comunità di Camerino. Io stesso sto ragionando, assieme alle principali autorità della zona, sulla possibilità di fare qualche altro intervento che, come dire, dia un ulteriore segnale di vicinanza tra le due comunità. La nostra amicizia, insomma, che risale a molti anni fa, abbiamo spesso collaborato come aziende per migliorarci entrambe e i risultati di entrambe le aziende dimostrano, come dire, che abbiamo fatto una bellissima sinergia. Noi volevamo manifestare la nostra gratitudine, dire il nostro grazie, lo abbiamo dovuto fare consegnando la nostra pasta di Camerino a ogni famiglia dei dipendenti, diciamo, della TV di Verona e anche agli amici del Centro Universitario Sportivo di Verona. La pasta proprio come segno della famiglia, come, diciamo, alimento da consumare a casa e quindi come segno di affetto. Credo che questa cosa sia stata molto gradita dagli amici di Verona, che si aspettavano un grazie, forse non se lo aspettavano con questo simbolo così concreto, seppur di valore semplice, come sono semplici le nostre tradizioni, ma forse sono semplici anche le tradizioni di questo Veneto, sempre laborioso, sempre pronto ad aiutare e di gente estremamente concreta. Alla fine diamo la testimonianza della cifra e dei rapporti che si instaurano anche con città distanti, però nel momento in cui c'è del bisogno c'è uno spaccato di Italia importante che è quello che noi vogliamo significare e soprattutto come amministrazione comunale di Verona direi anche il fatto che ci sia questa riconoscenza e questa gratitudine che spesso non è dovuta, però ci inorgologisce, ci rende assolutamente contenti di questo e ci dà anche la possibilità di continuare un rapporto futuro con una comunità importante che ha subito una ferita importante attraverso quel dramma che c'è stato, direi sia in ambito universitario che in ambito di città, di amministrazioni, un rapporto che deve continuare e soprattutto anche un rapporto quotidiano che va al di là del singolo evento che oggi si conclude con questa soddisfazione, ma direi anche degli interessi comuni che possono essere sviluppati anche per una città importante come Verona rispetto a un'altra città importante, un territorio importante che magari ha sofferto in questo periodo di una calamità che purtroppo l'ha decimato. È un onore che i colleghi che fanno il nostro stesso mestiere della bellissima città di Verona abbiano subito pensato a noi e ad aiutarci. La loro vicinanza è stato per noi un momento molto importante e oggi volevamo soltanto dire grazie, grazie di tutto. Per noi è stata veramente una bellissima giornata. Il minimo che si potesse fare. Abbiamo organizzato uno stage di cinque giorni per una quindicina di ragazzi di camerino, di giocattori del CUS. Gli abbiamo fatti divertire cercando di tenerli fuori dall'ambiente un po' sinistrato del terremoto. E quindi credo che avranno vissuto un cinque giorni di tranquillità e serenità e di felicità. Siamo sempre pronti ad aspettare altri 15-20 ragazzi ogni anno quando si organizzano a camerino, noi siamo qua in attesa. Le porte sono sempre aperte e visto l'esperienza andata bene per il primo giro siamo pronti a fare altri giri tranquillamente tutti gli anni. Il nostro è stato solo un piccolo segno di riconoscimento e però abbiamo voluto portare una piccola cosa del territorio perché proprio come dice Cus Camerino è di camerino come questo pastificio è di camerino che si identifica quasi con la nostra città. Abbiamo voluto portare qualcosa che lega perché per noi italiani la pasta è un qualcosa importante, familiare eccetera che proprio anche come nome oltre che come qualità naturalmente rappresentasse la nostra cittadina. Grazie a tutti.